dai due impressioni di guida così a caldo stiamo diventando bravi veramente i miglioramenti si notano assolutamente rispetto a stamattina uomo lei niente da dire? ho la migliore istruttrice che potevo avere sai che per questo il duca ti lincia? so che per questa battuta il duca mi lincerà pubblicamente però devo dire la verità ottimo i 10 euro ti rido dopo